Valbrona ha scelto la continuità nelle elezioni amministrative di domenica scorsa, la continuità rappresentata da Luigi Vener al terzo mandato in qualità di sindaco di Valbrona alla guida della lista civica La Nostra Valle. Un risultato chiaro, 59% di voti nei confronti del 40% ottenuto dalla sfidante Raffaella Carelli della lista Insieme Si Può. E allora abbiamo detto nel segno della continuità, possiamo dirlo, a Valbrona si prosegue col programma degli ultimi dieci anni. Certo, ci siamo ripresentati appunto con Patti, con il nostro gruppo, si chiama La Nostra Valle, per appunto la continuità e oltretutto forti di dieci anni di esperienza nelle passate due amministrazioni abbiamo deciso che Valbrona si merita di più. Dunque, tutti con Patti, ripeto, abbiamo deciso di continuare. Al nostro gruppo poi si sono aggiunti dei giovani volenterose, molto preparati, e anche con un bagaglio di esperienze e di cultura che saranno sicuramente, e noi tutti lo speriamo intensamente, per i prossimi amministratori della nostra bella Valbrona. Ecco, quindi un Consiglio Comunale rinnovato, lo possiamo dire. Per quanto riguarda la Giunta, l'esecutivo, ci sarà una continuità? Certo, c'è la continuità. Praticamente in Giunta ci sarà il Sindaco, ci sarà la Vice Sindaco Maria Luisa Paredi, ci sarà l'Assessore del Birancio e allo Sport, nell'ultimo mandato, a Redi Diego. Personalmente non le fa paura il terzo mandato, anzi uno sprone aggiuntivo, no? La passione consente di portare avanti ancora una bella esperienza amministrativa. Certo, certo. Il punto clou è quello, il più importante, è quello della passione per il tuo paese. Se hai passione, se hai voglia di fare, se ti interessa che il tuo paese si sviluppi, non puoi fermarti, devi continuare ad andare avanti, perché se ti fermi comunque il progresso continua e noi non possiamo, con la nostra Valbrona, rimanere al passo, ma bisogna stare al passo dei tempi. Un messaggio a questo punto ai Valbronesi, chiaramente un ringraziamento a quanti l'hanno votata. Certo, un ringraziamento a tutti quanti che hanno dato la fiducia per il gruppo La Nostra Valle e soprattutto anche a tutti i Valbronesi in particolare, perché comunque in particolare anche quelli che sono andati a votare, perché comunque è stato un impegno anche per loro. Che cinque anni saranno? Che cosa manca per completare questo mandato di 15 anni? Dal punto di vista urbanistico, lavori pubblici, noi abbiamo sempre quella famosa casa e il suo progetto preliminare già pronto, che si chiama Piazza della Libertà. Poi abbiamo la struttura fissa, giù all'area feste, eliminiamo il tondone che ha fatto i suoi anni e che ha dato tanto veramente in tutti questi anni, perché se non ci fosse stato non avremmo potuto fare tutto quello che abbiamo fatto in quest'area e andremo a realizzare questa struttura fissa, polivalente, polifunzionale, anche insomma che deve essere idonea per tutti i 12 mesi dell'anno. Queste sono le cose importantissime, oltre a tante altre, in merito all'urbanistica, alle strade riqualificate nei centri storici, due le abbiamo realizzate nell'ultimo mandato, ne abbiamo ancora un 5-6 da realizzare. Poi il completamento delle aste fognarie, siamo quasi al termine, ce ne mancano 3 o 4 su 15 o 16 realizzate, e i sottoservizi e qualche grosso impianto fognario nella frazione di Visino, cioè il secondo lotto, avevamo realizzato nel secondo mandato il primo lotto importante perché la parte bassa di Visino, in caso di forti piogge, si allagava come si allagava l'oratorio. Da quando abbiamo fatto questo primo lotto del collettore fognario, che poi si ricongiunge con il collettore che porta al depuratore giù di Berone, e praticamente si aggiungerà un secondo lotto. Val Bruna si prepara anche ad affrontare la stagione estiva, e quindi è la stagione turistica per quanto riguarda il vostro territorio. Sì, dobbiamo essere pronti, e per questo che già dall'inizio del programma e come inserito, dobbiamo lavorare molto sia sulla cultura e soprattutto sul turismo, perché anche sul turismo ci sono degli aggiornamenti da fare, ci sono delle migliorie, e con questi giovani praticamente che fanno parte del nostro gruppo contiamo molto su di loro. Quindi ecco, l'occasione opportuna, il rilancio del Paese in tutti questi anni, soprattutto con l'impegno nella stagione estiva, perché non mancheranno i numerosi appuntamenti sul territorio. Certo, proprio oggi abbiamo consegnato il calendario delle manifestazioni, come lo facciamo tutti gli anni, molto, diciamo, voluminoso, sono oltre 80 interventi, 80 eventi, che andremo a realizzare in Val Bruna e anche in zone limitrofe a Val Bruna, che è molto importante, e questo appunto per portare più turismo in Val Bruna e oltretutto migliorare anche la qualità. E allora grazie in bocca al lupo a Luigi Venner, alla lista La Nostra Valle, in occasione appunto di questo terzo mandato amministrativo. Grazie anche a te la Valassina, grazie a tutti i miei concittadini e buon lavoro a tutti.